Numero 3. Divertiti con i tuoi bambini con questo innovativo pallone da calcio. Il design si distingue per l'incorporazione della tecnologia delle sospensioni pneumatiche, per dare ai ragazzi una palla che scivola magicamente su pavimenti lisci, simulando un disco da hockey. Questo modello ha un diametro di 7 pollici, la dimensione ideale per il divertimento. Inoltre, è dotato di un sistema di illuminazione a LED che ti consente di giocare facilmente durante le ore notturne, include anche una playlist musicale per rendere ogni gioco più emozionante. Numero 2. Il pallone da calcio galleggiante della Viden ha un design meraviglioso e conveniente per tutte le tasche. Il modello si muove come un disco da hockey, grazie ad una mini turbina che genera uno strato d'aria tra la base del pallone e il terreno, generando la forza necessaria per far galleggiare la palla. Si tratta di un giocattolo sicuro per i vostri bambini, realizzato in plastica tossica e dotato di luce LED e musica in modo che il divertimento a casa non abbia limiti. Se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione. Numero 1. Il pallone da calcio galleggiante RC Technic Robotics è il regalo ideale da gustare in compagnia di amici e familiari. La palla è super morbida e soffice, inoltre è dotata di un paraurti in schiuma per evitare impatti sui mobili della casa. I vostri bambini potranno godere di un meraviglioso gioco notturno, grazie allo spettacolo multicolore offerto dalle luci LED incorporate nella sfera. Funziona con batterie ricaricabili e ha un'autonomia di utilizzo equivalente a un'ora di gioco.